una volta selezionato i prodotti cliccherò su acquista a questo punto selezionò il metodo di spedizione che può essere il corriere o se mi insiede o tariffa in questo caso sceglierò il corriere dopodiché sceglierò i metodi di pagamento bonifico scegliendo Paypal andremo su questa schermata confermo l'acquisto e saremo proiettati sul checkout di Paypal a questo punto se abbiamo un conto Paypal compileremo queste form se no non ha un conto Paypal e potremo scegliere di pagare con la nostra carta di credito senza nessun problema cliccheremo su paga e avremo effettuato la nostra transazione vi ringrazio per l'attenzione alla prossima